Musica Sentiamo adesso Pasquale Raimondo della Will Scuola. Come mai siete presenti oggi in piazza con noi? L'esclusione dei docenti assunti dal GPS, dalle assegnazioni provvisorie è di tutto illegittimo, destituita di ogni fondamento e per questo la Will Scuola dichiara che il pieno sossegno è l'assoluta complarietà a questa azione da parte del Ministero. Combatteremo contro questo anche perché ricordo che la Will Scuola, con sicuramente le altre organizzazioni sindacali, ha firmato un'intesa nella quale è stato prorogato il contratto di assegnazioni della volta scorsa. In quel contratto non è previsto nessun vittore. Ricordo ancora che lo stesso contratto è stato consentito ai docenti fit del 2019, anch'essi in possesso di un contratto a tempo determinato, finalizzato per l'immissione di uno, di poter accedere tranquillamente all'assegnazione provvisorie. Quindi due pesi, due misure. Porteremo avanti questa lotta, porteremo avanti questa battaglia e chiederemo anche se è il caso un'interpretazione autentica o faremo giuste pertenze. Grazie. Grazie a tutti.